Condannato all'ergastolo con l'accusa di aver organizzato e di aver preso parte all'omicidio di Francesco Immobile il 12 settembre del 2021, attore annunziata in provincia di Napoli. I giudici della Corte d'Assise e del capologo campano hanno accolto le richieste della DDA, carcere a vita per Pietro Pallonetto, considerato la mente dell'efferato omicidio che fu commesso davanti ad una chiesa dove c'erano diversi minori che avevano partecipato alla funzione della comunione. Assolto con formula piena invece l'altro imputato di 25 anni. Uno dei killer, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, è stato invece già condannato in primo e secondo grado a 20 anni di reclusione. Quest'ultimo avrebbe agito per vendetta, in quanto la vittima era nipote di un collaboratore di giustizia, le cui dichiarazioni contribuirono alla pena dell'ergastolo per il padre del 17enne.